Siete fantastici e tanta gente sta allenando, noi iniziamo così, pian piano i ragazzi sono già sul turma, sono per strada e poi tutti questi palloni verranno lanciati ognuno con la firma di ogni giocatore. Udine! 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 Udine di questo calore, di questa fantastica piazza, di Udine, per particolare a Francesco Fugnolini, uno di voi. E questa volta, anche il prossimo anno, con questi fantastici colori di alcoleni per portare in anno il prestito di questa bellissima città. Udine, siete il pubblico più bello d'Italia! E poi, cari e belle donne, tanti ragazzi, un tipo bello di questa meravigliosa città. Da lo scopriano e page 176, un tipo bello di questa meraviglia, una amore di questa meravigliosa città, una amore di questa meraviglia, una amore di questa meravigliosa città, e una amore di questaohneria, ma anche la terapia di questa meravigliosa città. per raggiungere il sedito ma piano piano arriverà perché ci sono più motorini intorno al pulmai che il moto al bike and fast di Timoto che finito ieri sta arrivando la squadra con il sedito una univiglia di Timoto e quindi che non avete neanche la più pari di idea forza ragazzi, forza siete in Sempios, vai venite pionati, venite pionati e festeggiate con tutta la piazza fantastici, all'epoca il bel se andiamo, se andiamo, se andiamo, se andiamo in Sempios V spettacolo meraviglioso chi non salta, chi non salta, chi non salta, chi non salta braggiglioso chi non salta, chi non salta, chi non salta, chi non salta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.